Ed ora un'altra chicca di Giacomo giù di sotto, alle 5 dopo il battiore delle 5 suoneranno per 30 secondi uno scampaneo festivo come ultimo segnale messa, cioè questo che abbiamo suonato adesso è il solenne praticamente, per gentile concessione il parroco ci ha permesso di farlo, ovviamente la cittadinanza è stata avvertita e anche i paesani che l'ha suonata è del tutto fuori programma, quindi non pensate che siamo diventati matti, adesso suoneranno il battiore delle 5 sulla terza campana Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E questo era lo scampaneo a festa, ha suonato come avete visto sulla quarta, sulla mezzana, sulla squillina e sul campanone Grazie a tutti!